Hola a todos, io sono Cronox, ben ritrovati nel mio canale Come sempre nel primo commento vi lascio il link al giveaway che è del tutto gratis Quindi mi raccomando partecipate, che a tutti i partecipanti vi farò vedere il vincitore In più vi ricordo che nel primo link in descrizione trovate quello per donare Nel caso vogliate supportare il Cronox nazionale Ma adesso passiamo subito in game Grazie 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 Torno Grazie 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.